Nel mese di aprile ci siamo incontrati nella sede provinciale dell'MCL in via Margaritona d'Arezzo con il vice direttore nazionale del patronato Sias Roberto Milaneschi. Con lui abbiamo parlato diffusamente delle novità inerenti, la previdenza per quel periodo. A distanza di due mesi siamo tornati sempre in via Margaritone, sempre nella sede provinciale dell'MCL per parlare ancora una volta con Roberto Milaneschi delle novità sempre in campo previdenziale che sono previste in questi giorni e nei prossimi mesi. Allora Roberto siamo entrati da pochissimo nella seconda parte dell'anno, sempre parlando naturalmente in termini di previdenza, che cosa bisogna aspettarci da questo finale di 2014 già proiettandoci quindi verso gli ultimi mesi di questo anno? Bisogna aspettarci, speriamo, buone cose, ma certo le cose che abbiamo messo in pentola sono tante e non so fino a che punto il governo naturalmente potrà arrivare a deciderle positivamente. Partiamo dall'ultima, quella che in questi giorni abbiamo letto, abbiamo sentito del Ministro Poletti che riaprirebbe una sesta salvaguardia per coloro, per 32 mila persone che in qualche modo sono rimaste ancora senza lavoro e senza pensione, eccetera. Di queste 24 mila sarebbero sovrastimate dalle precedenti salvaguardie, quindi recuperate e 8 mila i nuovi perché sposterebbe il termine per rientrare nei benefici della precedente normativa prima della legge. Ecco, stiamo parlando di esodati quindi. Stiamo parlando di esodati, sì, questa è una delle cose naturalmente che ci si aspetta perché gli esodati, ricordo, al momento sono stati individuati 162 mila, di questi 162 mila 90 mila sono stati certificati dall'Inse, ma poi di fatto le pensioni effettivamente liquidate sono circa 50 mila, quindi a questi 162 mila sarebbero stati aggiunti questi 8 mila spostando al 6 gennaio 2016 i nuovi termini per rientrare nella... fra questi naturalmente ci sono quindi mobilità, quelli che erano mobilità e quelli che erano naturalmente hanno... sono stati autorizzati avversamenti volontari, chi era... chi aveva avuto la... diciamo il congedo per assistere familiari entro il 2011, tutta una serie naturalmente chi era entrato nei fondi di solidarietà, insomma tutta una serie di persone che in qualche modo si trovano un po' in un limbo, non hanno più lavoro, non hanno prospettive di sostegno economico e nel stesso tempo non hanno la pensione perché il periodo, perché diciamo così i nuovi requisiti si sono innalzati e di molto, no? Esatto. E quindi allora come questo problema rimane aperto e diciamo prospettive di poter risolvere positivamente per un maggior numero di persone quali possono essere? Ecco le prospettive, insieme a questi esodati ci sono anche per esempio nel campo della scuola insegnante personale e amministrativo, si parla di 4 mila persone che anche lì attende da mesi questa quota, questo riconoscimento della vecchia quota 96 per uscire addirittura dal primo settembre, però anche lì naturalmente il governo non ha ancora deciso, quindi è in discussione alla commissione lavoro, la commissione lavoro io ricordo che il presidente Damiano, no? Ecco, Damiano che cosa ha proposto per diciamo il futuro prossimo e anche un po' più in là, ha proposto di ritornare un po' a una flessibilità, cioè i 66 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia, per uno che ha perso il lavoro e magari ne ha 58, 59, 60 sono una meta molto distante. Allora ripropone un'etra flessibile di uscita a 62 anni e con diciamo così una quota 100, si presume 62 più 38, 63 più 37, ancora non è dato. Roberto fammi capire da profano, queste sono quindi proposte di modifica alla legge Fornero? Proposte di modifica alla legge Fornero per in qualche modo renderla meno drastica e ripeto avvicinare l'età, la data della pensione per questi lavoratori che non solo hanno perso il lavoro negli anni passati, ma tuttora lo stanno perdendo, questo è il punto. Quindi per esempio si è parlato anche di un assegno pensione anticipata, APA, cioè praticamente riconoscendo a queste persone che sono vicino alla pensione a 62 anni, un acconto, un prepensionamento di circa 700-800 Euro, si parla di 760 Euro e naturalmente nel momento in cui raggiungono il diritto a pensione di vecchiaia, che poi magari la pensione sarà 1000 Euro, in quel punto scatterà una rateizzazione per rimettere quello che è stato pagato in anticipo, insomma sono tutti ripeto meccanismi che in qualche modo dovrebbero alleviare un po' i tempi di liquidazione di vecchiaia. Il problema è economico. Bisogna trovare le coperture giuste e speriamo che poi il governo da qui ai prossimi mesi possa anche trovare una soluzione economica in questo senso. Prima di entrare in un nuovo argomento ricordiamo ai nostri telespettatori che questa trasmissione ha una funzione di servizio pubblico e soprattutto di stimolo per le persone per indurre a riflettere sulla propria posizione previdenziale anche in relazione a un'età che poi non è vicina alla pensione, però invitiamo sempre anche i giovani a pensarci per tempo. In ogni caso gli sportelli del patronato Sias, il patronato che fa riferimento all'MCL, sono presenti in tutto l'ambito provinciale per dare la propria consulenza e consigliare al meglio tutti coloro che magari ci stanno ascoltando e gli abbiamo anche messo la pulce nell'orecchio per cui magari possono venire presso questi sportelli per analizzare insieme a un operatore qualificato la propria situazione previdenziale. Detto questo noi proseguiamo con il vice direttore nazionale Roberto Milaneschi nel corso della scorsa puntata che è datata ormai di qualche mese fa abbiamo parlato anche di pensione anticipata, ci sono mi sembra di ricordare delle novità sulle penalizzazioni per chi chiede questo tipo di pensione? Sì, è chiaro che la legge Fornero ha previsto naturalmente delle penalizzazioni per disincentivare la pratica del pensionamento, cioè dice un momento tu vuoi andare in pensione e si sappi che prima di 62 anni io ti tolgo qualcosa, quindi in qualche modo ti vorrei convincere a rimanere un po' a lavorare e naturalmente questo fatto diciamo così va visto sotto ogni aspetto perché fra l'altro ci sono delle novità proprio di questi giorni, hanno inserito per esempio in queste ultime settimane il congedo parentale, il congedo familiari, la maternità e la paternità che prima erano esclusi il congedo parentale dalla valutazione di questi periodi come una analogia al lavoro, mi spiego meglio, la legge che cosa dice? Tu devi avere comunque i 41 anni e mezzo se sei donna, 42 anni e mezzo se sei uomo per andare in pensione anticipata, di questi 41 anni e mezzo, 42 e mezzo alcuni contributi figurativi che sono equiparati naturalmente ai contributi obbligatori per raggiungere il diritto a pensione, però non valgono per quanto riguarda il discorso penalizzazioni, ad esempio un riscatto di laurea che di solito occupa un periodo della vita anteriore al lavoro e quello non viene equiparato così l'interpretazione che dà la funzione pubblica a lavoro, pertanto una persona che ha riscattato la laurea e arriva per esempio una donna del 53, adesso avrebbe 61 anni, è arrivata a 41 anni e mezzo, però se va in pensione adesso avrà una penalizzazione che è un punto percentuale, perché come funzionano le penalizzazioni? Le penalizzazioni funzionano prima dei 62, un anno prima è una penalizzazione di un punto, due anni prima fino da 60 a 62 due punti, ma prima dei 60 è due punti per ogni anno che è anteriore a 60, quindi di fatto se una persona a 57 anni perché ha iniziato a lavorare come precoce a 14-15 anni è chiaro che a 57 anni avrà 58-60, 6% più 2, 8% di penalizzazione, che comincia ad essere su 1000 Euro, 80 Euro di penalizzazione e ricordo che questa penalizzazione poi rimane per tutta la vita, non è che arrivando all'età della pensione di vecchiaia termina la penalizzazione, quindi bisogna stare molto accorti, giustamente come dice lei, bisogna preoccuparsi per tempo di venire presso di noi e noi cercheremo di dare tutte le indicazioni giuste dalla posizione contributiva del lavoratore. Altre informazioni questa volta relative ai supplementi di pensione, le ricostruzioni della pensione, tra l'altro ci siamo già entrati parlando appunto del riscatto della laurea, quindi siamo in tema. Sì, chi continua a lavorare dopo il pensionamento, soprattutto gli autonomi, ma anche i dipendenti che adesso lo possono fare con la legge Maroni, eccetera, chi continua a lavorare e quindi a versare contribuzione dopo il pensionamento può chiedere la rivalutazione di questi contributi sulla pensione, ecco questo è importante perché naturalmente aumenta l'importo stesso della pensione, quando li può chiedere questi supplementi, così si chiamano, li può chiedere ogni 5 anni dopo la pensione, oppure per una sola volta dopo 2 se però ha compiuto l'età pensionabile, ecco quindi di fatto se ha compiuto l'età pensionabile lo può chiedere anche dopo 2 anni, ma dopo gli altri supplementi dopo 5. Oltre a supplementi c'è il problema delle ricostituzioni, per esempio un problema di questi giorni il fatto che l'Inps, se ne è interessato anche Ballarò tra l'altro in una trasmissione di qualche mese fa, l'Inps di fatto non ha rivalutato il periodo di mobilità per quelle persone che magari hanno 2 o 3 anni di mobilità e negli ultimi 10 anni, noi lavoratori dipendenti il calcolo si fa sugli ultimi 10 anni di contribuzione. È chiaro che questo problema che è stato sollevato, ripeto, dai giornali eccetera, non è un grosso problema, non è che le pensioni avranno un aumento forte, importante, però è sempre una rivalutazione da farsi sulle mobilità perché le mobilità l'Inps le ha prese con un certo importo nel 2010 e poi non le ha rivalutate negli anni successivi. Quindi l'Inps ha promesso di fare questa ricostituzione delle pensioni entro ottobre, si spera che mantenga gli impegni, però il problema nasce dal fatto che nel 2011 è stata approvata una legge qui entro un po' nel difficile, però giustamente mettiamo un campanellino in più a chi ci ascolta. Una legge per la quale se la pensione poi trascorrono 3 anni e si entra nella decadenza, cioè si incorre nella decadenza, pertanto se la pensione è stata liquidata dal 6 luglio del 2011 in poi e il 6 luglio 2014 è prossimo. Ecco allora perché Ballarò è intervenuto su questo? perché dice, beh dopo che succede non posso più chiedere la ricostituzione della mia pensione se ho versato, se delle retribuzioni non sono state adeguatamente rivalutate. Ecco, in questo senso l'Inps, ripeto, si è impegnato entro ottobre a rivedere il problema e a esaminarlo quanto prima. E allora parliamo ancora una volta della situazione economica nazionale attuale, una situazione in cui la crisi colpisce duro, colpisce un po' tutte le categorie economiche dei lavoratori, in particolar modo sono colpiti anche i commercianti e rappresentanti di commercio che chiaramente essendo fermi i consumi risentono magari più degli altri di questo periodo veramente brutto per il nostro paese. Per quanto riguarda i prepensionamenti di queste categorie, ci sono penalità a cui facevi riferimento prima? Il discorso è questo, per i commercianti era stato previsto nel passato un indennizzo, un prepensionamento per coloro che in qualche modo non andavano avanti, insomma erano costretti a chiudere, quindi le licenze non erano più interessate dal mercato e se un esercente, attività commerciale o addirittura un agente di commercio aveva questi problemi e aveva naturalmente un'età di 57 anni per le donne, 62 per gli uomini, bastava che riconcedesse le licenze al comune, al sindaco del comune e poteva ottenere questo prepensionamento pari al trattamento minimo IMSS. Si era bloccata questa cosa qua da due anni, è stata ripristinata e arriverà fino al 2017, quindi recuperando naturalmente chi nel 2011-2012 aveva i requisiti dei 57 se donna, 62 se uomo, naturalmente però perdendo gli arretrati partendo solo dal 1 gennaio 2014, però è già positivo il fatto, perché? Perché come giustamente lei diceva, si chiudono due attività commerciali e se ne apre una, quindi c'è stata una grossa crisi nelle attività commerciali, per quei motivi che lei diceva prima. Ecco, quindi non tanto penalità ma insomma un motivo appunto di venire incontro comunque a queste attività che chiudono per via della crisi. Sì, chi naturalmente chiude e non ha possibilità di vendere quelle licenze va aiutato in qualche modo, al pari degli esodati lavoratori dipendenti, insomma perché anche queste persone hanno difficoltà ad andare avanti. Queste trasmissioni ci danno l'opportunità di parlare insieme agli amici dell'MCL di vari argomenti, come in questa occasione occupandoci di materia previdenziale, nelle scorse settimane se ben vi ricorderete con gli operatori del CAF ci siamo invece occupati di materia fiscale, ma abbiamo anche l'opportunità di ricordare anche delle persone importanti per il movimento, in questo caso ricordiamo anche una persona che è venuta a mancare da poche settimane, che ha fatto anche la storia, Roberto Neben, testimone del Movimento Cristiano Lavoratori qui in provincia di Arezzo, mi riferisco a Don Francesco Tiezzi che è deceduto nelle scorse settimane e che aveva una funzione anche di operatore sociale nell'ambito appunto del patronato Sias, prendendo in considerazione, prendendo a cuore le situazioni previdenziali dei sacerdoti. Ecco, in omaggio anche a Don Francesco, vice direttore nazionale, che cosa diciamo, innanzitutto un ricordo da parte tua appunto di Don Francesco, ma poi che cosa è prevista per la pensione per i sacerdoti? Sì, innanzitutto voglio ricordarlo perché proprio in questi giorni ho trovato delle foto del 74, quindi di 40 anni fa, primo congresso dei giovani del Movimento, io avevo 26 anni e quindi Don Francesco, mi ricordo, si fece ai bastioni Santo Spirito e si celebrò lì la messa, eccom, e quindi c'erano tanti giovani allora che partecipavano alla vita associativa e anche politica, perché in quel tempo là tutti si partecipavano, c'era questa grande partecipazione alla vita politica e Don Francesco, ecco, era un animatore anche, stimolava molto anche la partecipazione del giovane, no, perché c'era stata un po' la crisi delle acle a suo tempo, eccetera, lui aveva molto sofferto, fra l'altro, e quindi voleva ricostruire un movimento che fosse più, come dire, più legato a quei principi, ai quali naturalmente lui, ecco, credeva, ecco. Non è vero che lui era un operatore di patronato sia, lui è stato responsabile della diocesi del problema delle pensioni all'interno del Fasci, che era, diciamo, il patronato che si interessava a suo tempo. Poi quando il Fasci chiuse, per motivi naturalmente organizzativi, economici, eccetera, e lui continuò quest'opera, diciamo così, di assistenza a tutti i sacerdoti che dovevano andare in pensione, dovevano chiedere la pensione, non solo del fondo clero, ma anche pensioni impedap e della scuola, pensioni, allora c'era qualcuno che aveva fatto da ragazzo il coltivatore diretto, quindi non aveva mai ricongiunto questi contributi, quindi occorreva vedere un po' la posizione di ognuno di questi sacerdoti e lui era molto, come dire, preciso, scrupoloso, chiedeva proprio un impegno maggiore ai nostri, diciamo così, operatori, perché non voleva che poi qualche sacerdote diceva se hai sbagliato, avete sbagliato. Ecco, quindi mi ricordo questo, i sacerdoti, i sacerdoti che cosa intanto possano andare in pensione di vecchiaia a 68 anni, però se un sacerdote ha versato nel fondo clero 40 anni di contribuzione può andare con i 40 anni di contribuzione a 65. Ecco, io raccomando a chi ci ascolta, ai sacerdoti che ci ascoltano, abbiamo già iniziato anche con qualche sacerdote più giovane, di verificare per tempo l'inversamento di questi contributi da parte della diogesi, perché ci possono essere stati degli errori nel passato. E poi, nel stesso tempo, vedere anche un po' come stanno con i contributi della scuola, per esempio, o delle supplenze, dell'Inps, eccetera, ecco, sono posizioni un po' complesse che vanno viste per tempo. Quindi, la pensione di vecchiaia, l'ho detto, la pensione di invalidità, è prevista anche una pensione di invalidità con almeno 5 anni di iscrizione al fondo clero, e però bisogna essere impossibilitate a svolgere il ministero di sacerdote, per motivi di salute, certamente, e poi c'è anche la pensione di reversibilità, nel caso che il sacerdote muore e abbia dei familiari a carico, genitori, fratelli, eccetera. Questa è un po' la situazione, come si calcola la pensione del fondo clero? Ripeto, per ottenerla bastano 68 anni di età e 20 anni di contribuzione. Se uno però ha versato 40 anni, i 20 anni che ha versato oltre i 20, quindi per arrivare a 40, viene riconosciuto 650 euro per ogni anno in più, quindi 650 per 20 sono 130 euro che si sommano ai 501 di trattamento minimo, 631 e 38 per la verità. Quando il sacerdote però diventa titolare di una pensione autonoma, obbligatoria, per esempio, impedap o impse, queste 631 vengono divise per tre, perde un terzo di fatto, quindi viene ridotta la pensione a 421 euro. I sacerdoti lo sanno molto bene questo fatto, abbiamo anche tentato qualche anno fa di fare ricorso per questa trattenuta del terzo, ma purtroppo però non c'è stato l'accoglimento da parte della magistratura. E mi associo anch'io all'invito fatto dal vice direttore nazionale del patronato Sias, ovvero quella appunto di premonirsi per tempo, verificare, come abbiamo detto anche prima, la propria situazione previdenziale per tempo, recandosi presso i sportelli presenti in tutta la provincia del patronato Sias. Per esempio, ricordiamo in città la sede di via Margaritone e la sede di via Concino-Concini. Ultimo argomento della nostra chiacchierata, Roberto, il bonus di 80 euro che è stato previsto dal primo maggio scorso. Innanzitutto sarà una situazione strutturata, quindi che proseguirà nel tempo, e poi chi ne saranno poi beneficiari? È previsto comunque un allargamento delle categorie sociali che potranno beneficiare di questo bonus? Una domanda interessante questa, perché giustamente molti pensionati si sono presentati presso il nostro ufficio dicendo, ma perché a noi non viene concesso questo bonus di 80 euro, che ricordiamo per 8 mesi sono 640 euro, se naturalmente il reddito presunto dell'anno in corso non supera 24 mila euro. Da 24 a 26 mila euro ci sono delle fasce per cui si riduce il bonus. E' stato riconosciuto ai lavoratori dipendenti, naturalmente ai soci di cooperative, ai disoccupati che percepiscono l'indirittà di disoccupazione, ai lavoratori in mobilità, ai titolari di borse di studio per corsi di formazione, ai co-co-co e a quelli a progetto e ai lavoratori impiegati socialmente utili. Quindi di fatto bisogna avere un'occupazione. Non è stato riconosciuto agli indigenti, cioè coloro che magari nel corso dell'anno 2014 hanno un reddito inferiore a 8 mila euro. Perché? Perché 8 mila euro non sono tassabili, quindi non sono soggetti ad IRPEF. Per questo motivo vengono esclusi dal bonus. E' rientrato nel bonus quel lavoratore che avendo coniuge e familiari a carico e con le detrazioni dei familiari a carico andava sotto gli 8 mila euro, quindi diventava indigente, è stato fatto rientrare e quindi è stato riconosciuto il bonus. La stessa cosa è stata riconosciuta il bonus alle colfe, alle badanti, però costoro non possono certamente averle dal datore di lavoro che dovrebbe anticipare le 80 euro. Dovranno nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno richiedere il bonus con il 7,30 o con l'unico. Ecco, la stessa cosa per i deceduti nel corso dell'anno. Cosa si prevede? Si prevede, certo le cose abbiamo detto messe in pentola sono tante. Si va dalla cassa integrazione in deroga alla cassa integrazione ordinaria per quale manca un miliardo. Proprio di oggi il ministro Poletti si raccomanda di impegnarsi per rifinanziare questi strumenti di sostegno al reddito. C'è il problema degli esodati, c'è il problema del quota 96, c'è anche il bonus strutturale che dovrebbe continuare nel 2015. Noi ci speriamo che queste cose vengano risolte, ma non è certo. Con questo augurio noi ringraziamo il vice direttore nazionale del patronato Sias Roberto Milaneschi, lo ringraziamo della sua disponibilità e diamo appuntamento ai nostri telespettatori al prossimo incontro con l'MCL. Grazie a tutti per l'attenzione.